ciao da francesco e benvenuto in ecommerce 360 oggi parliamo di come analizzare i tuoi competitor innanzitutto individua 45 competitor massimo non di più quindi quelli che fatturano di più oppure se ce ne sono dei nuovi più promettenti che potranno diventare dei competitor molto agguerriti e inizia a fare la tua analisi il tuo obiettivo è quello di rubare fatturato ai tuoi competitor cercando di capire i loro punti deboli per creare di conseguenza quelli che saranno i tuoi punti di forza la prima analisi che devi fare se il tuo prodotto è una commodity ossia venduto anche da altri è un benchmark sui prezzi perché anche se non avrai il miglior prezzo almeno devi poter stare sul mercato ed essere allineato per la comparazione dei prezzi puoi utilizzare strumenti di monitoraggio come competitor coguard pricing insomma ce ne sono davvero diversi non farlo a mano soprattutto se è un catalogo molto molto grande perché il tempo che ti richiederebbe un'analisi del genere è veramente lungo però se non vuoi utilizzare dei tool non ti resterà altro che dover farlo manualmente anche se te lo sconsiglio fortemente soprattutto se è un catalogo ripeto molto molto grande individuati quindi questi 45 competitor di riferimento richiedi un bilancio per capire quanto fatturano quanto personale dipendente hanno ovviamente gli esterni sono esclusi perché non puoi individuarli quanto margine fanno perché vai a vedere la merce venduta meno la merce acquistata e da lì ti vai a calcolare quello che è il loro mark up con il quale stanno lavorando quando hanno iniziato l'attività che è un altro dato molto importante e qual è la loro redditività e altrettanto importante quindi puoi farti aiutare da un consulente un commercialista nella lettura se non hai mai letto un bilancio ma fai attenzione perché se non sai leggere un bilancio ho dei dubbi che tu sia un buon imprenditore l'imprenditore deve saper leggere un bilancio non solo quello dei competitor ma anche il proprio e sapere come andarlo a gestire per quanto riguarda invece tutto quello che è la parte online che fanno i tuoi competitor dovrai fare alcune analisi una cosa che ti consiglio è di installare il plugin wapalyzer per il tuo browser che identifica non solo il cms che utilizzano la piattaforma che utilizzano i tuoi competitor ma anche tutti quelli che sono software esterni linguaggi di programmazione e oltre questo fai una ricerca all'interno dei siti dei tuoi competitor e individua tutte quelle che sono le aree dove sono carenti per esempio iscriviti anche alla loro newsletter vedi come la sfruttano e vedi percorsi di navigazione come funzionano i resi il customer care quali sono le metodologie di pagamento che hanno implementato quindi cerca di fare una ricerca a 360 gradi lato esperienza utente poi puoi utilizzare strumenti come per esempio semrush seo zoom per visualizzare quello che il traffico organico e a pagamento ed altre info utili o similar web per esempio un altro ottimo software è chiaro sono dei software quindi dati che ti danno sono sempre delle stime ma sono molto interessanti per esempio per vedere su quanti keyword sono posizionati su quali keyword sono posizionati dove gli sta arrivando traffico e dove investono anche a livello di advertising studia poi anche l'audience e il loro sentiment che hanno rispetto ai loro clienti il posizionamento sui social per esempio in che modo lo sfruttano in che modo interagiscono se hanno una community o meno e nel momento in cui come ti dicevo prima fai user testing sui siti dei tuoi competitor quindi che cosa devi fare devi interagire provare il loro sito non solo devi navigare ma effetto anche un acquisto effetto un reso contatto al customer care analizza tutti i fornitori brand che vendono in quali mercati operano le metodologie di pagamento i tempi di consegna le garanzie i resi le spese di trasporto che tipo di live chat hanno se hanno dei ticket per il customer care se hanno un numero verde la tipologia di layout se è responsive se hanno un'app mobile se hanno le pwa il grado di usabilità del sito stesso eccetera eccetera una volta finita l'analisi dei tuoi competitor sia offline quindi sulla parte di bilancio come ti dicevo prima sia online su tutto quello che fanno con il loro e commerce dovrai implementare nella tua strategia tutte quelle leve e quei servizi che tuoi competitor non offrono e capire in che modo migliorare il rapporto e l'esperienza di acquisto dei tuoi clienti che sono sempre al centro di ogni strategia